I fatti di Piazza Fontana sono rilevanti perché segnano una spartizione temporale molto netta tra un prima e un dopo. Innanzitutto si inseriscono dentro un quadro di imponenti agitazioni sindacali del 1969. Quindi c'è una grandissima mobilitazione legata anche a un desiderio di riuscire a limare le grandi differenze tra ricchi e poveri. E in effetti quella stagione porta anche a una grande redistribuzione del reddito. Accanto a queste imponenti mobilitazioni c'è una preoccupazione dell'apparato statale moderato conservatore su una possibile perdita di controllo delle manifestazioni e del corso politico. Come bloccare, come arginare questo grande movimento? Gli apparati dello Stato, segnatamente i servizi segreti, e i servizi segreti comunque guidati dai politici, ritengono che fosse necessario instillare un po' di paura nell'opinione pubblica. Un po' di paura attraverso una deposizione di bombe, soprattutto a cominciare dalla primavera del 1969. Bombe innocue, ma che dovevano essere l'avvisaglia di qualcosa che poteva crescere, di un disordine che poteva aumentare. E in questo modo quindi cercare di indurre l'opinione pubblica a un desiderio di ordine, a calmare sostanzialmente le sue richieste.